Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una gustosa ricetta salata ideale per arricchire buffet e antipasti, dei morbidi muffin alla pizza. Per questa ricetta utilizzerò 200 g di farina 00, 20 g di formaggio grattugiato, 2 uova, 12 g di lievito per torte salate, 5 g di sale fino, 2 cucchiaini di origano, 100 ml di latte, 50 ml di olio di semi di girasole, 30 g di olive nere denocciolate e tagliate a rondelle, 20 g di concentrato di pomodoro. Vi ricordo che potete trovare la quantità degli ingredienti nell'info box sotto. Inizio la mia ricetta lavorando con il frullatore elettrico le uova. Aggiungo il sale Incorporo gli ingredienti liquidi, quindi il latte l'olio Aggiungo il formaggio Il concentrato di pomodoro Incorporo la farina e il lievito setacciati Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Concludo con l'origano e un po' di olive. Trasferisco il composto negli stampini per muffin. Metto sopra le olive che ho lasciato prima. Grazie per la visione! E ora non mi resta che infornare in forno caldo a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Ebbene amici se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qual volta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!